Benvenuti nel mondo degli orologi Damasco. Damasco è un marchio di orologi con una storia di ricerca e sviluppo di oltre 24 anni. L'azienda ha iniziato il suo percorso nel 1999, quando ha messo a punto un brevetto rivoluzionario per gli acciai inossidabili temprabili. Questo brevetto nel 2010 ha permesso all'azienda di produrre acciai di altissima qualità, che sono stati utilizzati per la creazione del primo orologio con calibro di manifattura Damasco, la 35. La 35 è stato un orologio molto importante per l'azienda, perché ha rappresentato il primo passo verso la produzione di orologi di alta qualità. Questo orologio era dotato di un movimento di base a carica automatica, che garantiva una precisione incredibile. Ma Damasco non si è fermata qui. Nel 2012 ha sviluppato un altro orologio importante per l'azienda, l'H35, che era dotato di un movimento a carica manuale. Questo orologio era ancora più ambizioso del precedente, per la grande precisione e l'attenzione ai dettagli. Ma la qualità degli orologi non è l'unica cosa che rende Damasco un marchio unico. L'azienda ha anche un'attenzione particolare per i dettagli e per l'esperienza di acquisto dei clienti. Ad esempio, i cinturini in pelle utilizzati per gli orologi sono realizzati da artigiani esperti, che garantiscono la massima qualità. In conclusione, la qualità degli orologi Damasco è il risultato di una profonda conoscenza degli acciai inossidabili temprabili e di una grande attenzione ai dettagli. Grazie a tutti.